buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo del fatto che è in arrivo a dicembre l'aumento dello stipendio tabellare per docente e personale ata e sono in arrivo anche gli arretrati per tutti i docenti e tutto il personale compresi i dsg andiamo alla prima domanda allora sono una docente di italiano e latino di un liceo scientifico la mia classe stipendiale è la classe 21 a quanto ammonterebbero gli arretrati che dovrei ricevere per il rinnovo del contratto scuola il calcolo preciso dipende dall'aliquota irpef applicata ai cedolini del 2022 in linea generale dovrebbe prendere una cifra netta pari a 1670 euro ma se si applicasse per il 2022 un'aliquota media dell'irpef allora si arriva a percepire 1742 euro domanda numero 2 nella ricostruzione di carriera mi sono stati riconosciuti quattro anni pieni e poi ho continuato con il ruolo per gli anni scolastici a 9 20 20 21 21 22 22 23 quando scatterò e che aumento prenderò essendo una docente laureata della scuola secondaria di secondo grado di fatto si sta completando l'ottavo anno di progressione di carriera quindi già il primo settembre 2023 entrerà la docente nella classe stipendiale 9 14 e che viene indicata nel cedolino con classe 9 i lo stipendio avrà un aumento già dicembre 2022 dove avrà una maggiorazione di 79 euro lordi al mese che a partire dall 1 settembre 2023 diventerà 89 euro lordi al mese si tratta di un aumento di netto di 55 euro al mese domanda numero 3 sono un dsga ne ho assunto e vincolato a restare per tre anni in una sede lontano da casa che aumento tocca a coloro che si trovano nella mia situazione intanto c'è un indennità annua pari a 156,20 euro lordi poi c'è un aumento tabellare dell'attuale stipendio di 72 euro lordi mensili al netto si tratta di un aumento mensile circa di 56 euro questa è la situazione e bene speriamo che queste risposte alle vostre domande siano di utilità a tutti i docenti a tutto il personale ata e continuate a seguirci nei nostri canali social facebook e youtube instagram perché andremo anche in onda con dirette interessanti su tutto ciò che riguarda la scuola e seguiteci nel nostro sito www.tecnica la scuola.it arrivederci a tutti www.tecnica la scuola.it 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 www.tecnica la scuola.it